Buongiorno a tutti, rappresentante della zona territoriale omogenea 4, Torino Nord. I miei colleghi dei comuni di Mitrofi che condividono con me questa esperienza mi riportano una situazione di grande lavoro e di grande naturalmente impatto sul territorio di quello che è in questo momento. Sono tutti impegnati in coca aperti, attività di sostegno alle persone che in questo momento ne hanno bisogno, l'assistenza domiciliare, le famiglie che in qualche misura sono in isolamento. Un grande sforzo che coinvolge tutte le amministrazioni, tutti i sindaci, tutti i colleghi e che necessita di pensare, di guardare all'oggi in questo momento così difficile, così importante che ci vede tutti uniti e anche collegati nel cercare di darci consigli, di supportarci e di chiedere informazioni ai nostri enti superiori, a cominciare dalla città metropolitana, che ci vede uniti anche nel pensare a quello che sarà il domani. Dobbiamo in qualche modo giustamente pensare alle emergenze attuali, a superare questo momento di grande crisi, di grande problematica sanitaria. Certamente ci vengono in mente anche quelle che possono essere delle valutazioni per quello che sarà l'immediato futuro, speriamo il prossimo futuro, quello di ricostruire, di andare a ricreare una rete ancora più efficiente per il sostegno delle amministrazioni, dei cittadini nei territori, nelle aree vaste ma anche nei singoli comuni e questo abbiamo forse avuto una grande lezione da quello che sta succedendo, può succedere solo con l'unità delle persone che rappresentano i territori e lavorano insieme per quello che sono la salvaguardia, la salute e tutto quello che può portare al benessere generale. Questo è un momento molto difficile ma vedo grande terminazione e grande sangue freddo da parte delle amministrazioni, dei miei colleghi sindaci e degli enti superiori. Certamente qualche volta problemi di comunicazione ci sono ma è normale, siamo in una situazione talmente complessa, talmente complicata che dobbiamo in tutti quanti sopperire con la buona volontà. Credo che sia giusto quel motto che dice che questo è il momento di far vedere che siamo un grande paese e forse siamo anche un grande insieme di sindaci e di cittadini di questi paesi che insieme ce la faranno ad uscire da questo momento. Grazie. Grazie.